Un'onorevole Cannata ha approvato ordine del giorno sull'alta velocità della rete ferroviaria tra Siracusa, Ragusa e Catania. Un modernare potenziale della rete ferroviaria regionale siciliana tra le province di Catania e Siracusa, Ragusa, prevedendo la dotazione di rete elettrificata e a doppio binario delle infrastrutture ferroviarie presenti con previsione della linea ad alta velocità. È stato approvato l'ordine del giorno del parlamentare di Fratelli d'Italia Luca Cannata in Parlamento con il parere favorevole del Governo. L'approvazione di questo ordine del giorno si inquadra nel miglioramento delle infrastrutture ferroviarie in Sicilia, dichiara Cannata. Il potenziamento della rete ferroviaria nel sud-est è essenziale per il progresso economico e sociale della nostra Regione. Il Governo, in collaborazione con la Regione siciliana, sta mettendo in atto le misure necessarie per realizzare questi interventi fondamentali, compatibilmente con le risorse disponibili nel quadro di finanza pubblica. La Sicilia necessita di interventi per accelerare il completamento di numerose opere strategiche e interventi tali sono fondamentali per migliorare la libera circolazione dei cittadini e merci all'interno della Regione. Continuiamo a lavorare e conclude per modernizzare e potenziare le infrastrutture del Paese.